La Giuliana Bruno, Rovine con vista, Napoli e il cinema di Elvira Notari. Odlibet è un libro che fa riscoprire questa figura leggendaria del Novecento, prima più grande regista italiana, vissuta a Napoli, che nei primi del Novecento, insieme al marito, fonda la Dora Film, una casa di produzione, proprio un cinema di strada. Utilizza gli attori anche non professionisti, racconta Napoli come nessuno mai. Perché è stata dimenticata? Perché a un certo momento inizia a essere portatrice di un racconto di una Napoli popolare, viene perseguitata dalla censura antifascista. E che cosa fa Giuliana Bruno? Giuliana Bruno è una grandissima ricercatrice, una grandissima professoressa, una studiosa come non ve ne sono, racconta questa figura. Comunque si rispecchia, perché poi anche lei è una grande rivoluzionaria. Parliamo di due libri gemelli, fanno parte di una collana che si chiama Corpi, che è una collana bellissima di Quaglibert, di saggi che aprono le finestre della curiosità del lettore. In questo caso si sta parlando di anime primitive, Philippe Alain Michaud, figure di celluloide, di peluche e di carte. Le anime primitive sono le anime separate, come lo sono le figure. Perché una figura appaia, bisogna che un corpo scompaia. La figurabilità non è altro che il racconto di una separazione. È per questo che la questione della rappresentazione è così connessa al lutto, e a sua volta il lutto, ci rimanda sempre all'enigma della rappresentazione. Unito poi all'indice di questo libro si capisce di che cosa si pare. Sullo schermo simulacri, la commedia di distruzione, uomini ragno, peluche, psicopompi, crazy cacina, il coniglio Oswald, macchina desiderante, dreamland, pavor nocturno, si figli della notte, fantasmagoria, tanatografia, a volte ritornano. Ragazzi, un viaggio spettacolare. Puoi dire questo qua in napoletano? Questo è un fuori onda. Questo è un fuori onda, come si dice flanere in napoletano. Strascinne faccenne. Stupendo.